Schetto in bocca per il direttore di gara, divertiamoci perché è iniziata Ischia contro Nardò. Florio studia un attimo la situazione e poi cerca il centro. Talamo poi arriva Quirino per la conclusione! Volante! Però Tuninetti nell'ennesimo recupero. E allora apertura per Florio che cerca il traversone interessante. Casponda per Giacomaro, esterno per Giuseppe Magliorano che può puntare Magliorano al comoda per il sinistro! La parata mostruosa! Intanto errore è del Nardò, Quirino in aria, il destro! Dell'Ischia a calcio! E allora attacca Maletic che punta la porta, cerca il mancino Giannacone! Il tocco centrale, attenzione al tracciato centrale, Dalla! Arriva la battuta sul primo palo! Per l'anticipo secco! Da parte di Dan... Gli ospiti, Lischia intanto sbaglia, Florio deve stare attento a non commettere fallo. Commette, attenzione, doppio giallo e cartellino rosso! Possibilità per il Nardò con la conclusione! Che si perde in porta! Si riparte al Calise, è ricominciata Ischia a Nardò, Giacomaro. Talamo prende posizione al centro, il pallone per lui interessante! Talamo controlla, Talamo! Non riesce a trovare! Tira verso il centro, poi sale anche Calderuni, una sponda per il mancino! 26, che sistema, crossa, interessante De Luca! Fallo in attacco! Talamo poi a battere subito per Danna che si inserisce controllo a seguire Danna! De Luca, Montanino, la parata! E quindi Danna che si sistema il pallone Danna! Lui, arriva Montanino, il cross per Talamo, De Luca! E poi, e poi c'è ancora fallo in attacco! Arriva due e arriva tre! Il direttore di gara dice che può bastare così, finisce due a due tra Ischia e Nardò.